Grazie dell'invito. Però questo elemento qua, partiamo simpaticamente dal fatto che dobbiamo pensare alla visione strategica ma anche al panino del 1330, perché è una delle contraddizioni con cui è anche difficile pianificare il futuro nel nostro paese e anche nella nostra città. Abbiamo parlato in introduzione e poi nell'intervento del professor Abis. A me avrà colpito molto anche le parole giustamente critiche sulla situazione della gestione dei terremoti, perché abbiamo ancora le casette. Nel frattempo però è nato anche un progetto che si chiama Casa Italia, che a me sembra molto interessante, perché tra l'altro con anche dei soggetti, il professor Abis diceva allo studio, l'abbiamo fatto insieme al professor Razzone, che è stato messo a capo del progetto Casa Italia, che ha l'ambizione a livello nazionale non di occuparsi dell'emergenza di domattina, che per tutti quanti noi è comunque il problema principale perché abbiamo delle persone che vivono in situazioni precarie dopo aver subito una tragedia qual è un terremoto, ma di provare a creare le condizioni per cui l'Italia esca da un'emergenza che è quella dei terremoti, con una sistemazione che non sia quella che finiamo sempre a piangere una situazione drammatica. Il risultato è che da un lato ci sono delle oggettive difficoltà nella gestione dell'emergenza, ma dall'altro non si riesce a parlare della pianificazione futuro perché siamo sempre sommersi da una gestione dell'emergenza. Questa è una caratteristica stabile e stazionaria del nostro paese che ci mette in difficoltà rispetto a una capacità di pianificare a lungo termine straniera che noi spesso ridicolizziamo, a volte anche ha ragione. Io conosco molto bene il piano di Londra del 2050. Se noi avessimo fatto un piano del genere ci riderebbero dietro da tutte le parti. Il piano di Londra del 2050 è fantastico, fatto salvo che due anni dopo che l'hanno approvato hanno votato la Brexit. Metà del piano possiamo prenderla, buttarla in un cestino e dire che è totalmente inutile. Londra, capitale dello sviluppo economico dell'Unione Europea, secondo il piano del 2050, ha rinunciato a stare nell'Unione Europea. È un piano inutile? No, perché il processo che porta a sviluppare quel piano consente a tutti gli attori del territorio di condividere degli obiettivi e conta molto di più quello della capacità di raggiungerli. Se tu fai un piano, ma ognuno di noi, dal singolo cittadino, come ci immaginiamo noi nel 2050, non andrà così. Però il modo con cui saremo conta per arrivarci. Anche per le città questo aspetto conta. Ma bisogna creare le condizioni per riuscire a convincere tutti i soggetti della città e i cittadini che vale la pena pensare e ragionare in quell'ottica. Guardiamo i dati della Milano di cui abbiamo parlato e di cui ha parlato anche il professor Abis. Io amministro la città e quindi parto indubbiamente nel racconto dal dato più positivo. Poi andiamo a discutere anche degli altri. C'è una tabella che a me ha molto colpito. come è aumentata dagli anni 90 agli anni 2000 ad oggi due dati. Uno, la fiducia verso il futuro in un sistema che a livello nazionale non ti invoglia ad essere fiducioso verso il futuro, ma che a Milano resta un elemento importante. Milano è oggi, per i milanesi e per tutti gli altri italiani e non che vengono a vivere a Milano, la città delle opportunità. Questo è un dato importante ma è anche una grande responsabilità. Primo elemento. Secondo elemento è visto quel dato. Noi, penso singolarmente ognuno di noi, negli anni 90 vivevamo a Milano ma pensavamo che sarebbe stato meglio vivere altrove. Oggi viviamo a Milano e immaginiamo il nostro futuro a Milano. Questi sono due elementi importanti che oggi, a differenza di qualche anno fa, ci consentono di dire che immaginare il piano del 2030, qua nella tavola rotonda è scritto 2028, noi stiamo lavorando su un'ottica 2030, ha senso farlo perché in questo momento ci sono le condizioni di fiducia e di prospettiva nel futuro della città che ci dicono ragioniamo insieme su come vogliamo la città su cui stiamo scommettendo nel nostro futuro tutti quanti. E anche il piano del governo del territorio che stiamo scrivendo, collaborando con tutta una serie di soggetti di cui la Will fa parte e ringrazio, va in questa direzione. Noi non ha senso che ragioniamo nel 2050 perché oggi, dici, se fino a qualche anno fa già parlare a distanza di tre anni e dicevano ma io ho un problema stamattina, non tra tre anni, oggi possiamo ragionare un po' più lungo, già darci una prospettiva tra i 15, intorno ai 15 anni, ha senso farlo. Ragioniamo di qual è la Milano del 2030. Il piano del governo del territorio può essere il piano di sviluppo metropolitano di cui stiamo parlando, in qualche modo, con alcuni limiti noti. Intanto noi abbiamo fatto delle riforme istituzionali che hanno funzionato fino a un certo punto. La città metropolitana è evidente che non sta funzionando, è evidente. E non sappiamo, lo diceva anche il sondaggio che c'è nella cosa, qual è il confine giusto, è quello attuale, è più largo, probabilmente non è la Lombardia ma è un pezzo importante, sì. Qual è quel confine? Intanto che ragioniamo di qual è quel confine, partiamo dal fatto che noi ci siamo, abbiamo tutti chiaro che governando la città di Milano non possiamo limitarci al confine dove vivono un milione e quattrocentomila persone, ma dobbiamo lavorare con una prospettiva più ampia. Lo facciamo coinvolgendo delle categorie, dei corpi intermedi, delle associazioni che hanno questa visione, questo respiro, sì. E allora ragioniamo così. Poi vediamo in che modo si possono formalizzare istituzionalmente gli obiettivi. Ma chi governa Milano oggi lo fa sapendo che è al centro di un'area di sviluppo molto più ampia e che parte del successo che ha avuto Milano nell'ultimo quinquennio, ed è un successo inequivocabile, nasce dal fatto che c'è stata una grande collaborazione istituzionale tra soggetti diversi, comune, regione, governo, tra mondi produttivi. Gli obiettivi che ci siamo posti sono stati condivisi tanto dalle associazioni datoriali, tanto dai sindacati, tanto dal corpo diffuso delle associazioni milanesi. Expo ha funzionato perché tutti abbiamo creduto che dovesse essere il biglietto da visita di Milano. Il post-expo è un progetto che magari poteva partire due anni prima, ma che oggi è estremamente solido perché è nato da quel tipo di condivisioni. Non abbiamo vinto EMA per varie ragioni, insomma, mettiamola così, ma siamo stati indubbiamente protagonisti di una candidatura che è stata da tutti riconosciuta come valida, forse addirittura la più valida. Allora, questo ci dice che possiamo vincere o perdere una partita, ma siamo sempre lì a giocarcela perché c'è un sistema che funziona e che oggi può iniziare a ragionare sul futuro in maniera ampia. Questo significa che a Milano in un momento in cui anche a livello nazionale la campagna elettorale non è partita, a mio giudizio, con degli elementi positivi. Tutti stanno discutendo di qual è la riforma che vogliono cancellare nei prossimi anni. Io faccio parte della compagine che ha governato il Paese in questi anni. Non pretendo di dire che è tutto perfetto e non lo penso, ma credo che dobbiamo aspettarci che chi vuole governare il Paese non dica cosa cancello, ma cosa aggiungo, qual è la prospettiva futura. Questo è il Paese. Però sul livello territoriale noi dobbiamo andare in questa direzione. Cosa aggiungiamo? Certo con una chiave anche critica e di valutazione di alcune cose che non hanno funzionato nel corso degli anni, perché Milano è andata bene ma non è l'Eldorato. Ci sono vari punti su cui dobbiamo e possiamo fare meglio. Chi osa, chi governa, chi rischia, alcune cose le fa bene e altre le fa male. Ma dobbiamo porci degli obiettivi. Io ne pongo alcuni. Gli elementi su cui andare a costruire il futuro sono noti. Il professor Abis ha fatto una relazione che ci dice quali sono i settori su cui andare. Allora io dico che ci sono alcune sfide che abbiamo in comune e su cui i sindacati sono protagonisti. Se a livello nazionale l'obiettivo principale è incrementare l'occupazione, a Milano la disoccupazione è bassa. Il tema che dobbiamo porci sempre di più è la qualità di questa occupazione, la crescita salariale. Milano è una città dove si vive bene se tu hai le risorse per vivere bene. Da un lato noi dobbiamo lavorare per migliorare in particolare sull'offerta abitativa il fatto che ci sia un tema di case accessibili, in particolare in affitto. Dall'altro bene l'occupazione alta ma proprio perché l'occupazione alta non più un lavoro qualunque esso sia ma con un quadro retributivo che consenta di avere una qualità della vita importante. A Milano vivi bene se ti puoi consentire di andare fuori anche a cena due o tre volte al mese, alla settimana, se no non ti godi il pezzo di vita che offre Milano e che oggi qualitativamente è diverso dal resto del paese. Se hai la possibilità di garantire un'istruzione, un'educazione importante. Allora su queste cose noi dobbiamo fare in modo che Milano diventi sempre di più una città che è accessibile a chi sta scommettendo a Milano. A Milano la popolazione cresce, in Italia diminuisce, a Milano cresce. Perché? Perché c'è una fascia di cittadini tra i 20 e i 40 anni che dice vengo a Milano perché è una città delle opportunità, dove c'è lavoro, dove c'è qualità della vita, dove c'è istruzione, dove posso immaginare un futuro. Diamine, però dobbiamo accompagnarli a vincere da questa scommessa. Abbiamo bisogno di incrementare delle case in affitto a prezzi accettabili. Questa è la nostra grande sfida. Non possiamo aumentare il patrimonio di case popolari, ma non è questa la sfida che ci chiede quel pezzo di popolazione. Non hanno bisogno di pagare una casa come le case popolari, ma non ci si può permettere sempre l'affitto tra i 700 e i 900 euro al mese, come a volte si chiede addirittura agli studenti universitari. Abbiamo bisogno noi di lavorare insieme su questo tipo di fascia di offerta. Secondo passaggio, abbiamo bisogno di creare condizioni che incrementino i posti di lavoro di qualità nella nostra città. E abbiamo tutte le strutture per farlo. Il mondo universitario che cresce, il mondo universitario per numeri, è quello che erano le industrie negli anni 70. Va valorizzato, va fatto in modo che diventi da solamente offerta universitaria sempre di più elementi di costruzione di imprese, aziende che stiano sul mercato. Le start-up in Italia sono deboli oggi, molte volte sono quasi fenomeni di autoimprenditorialità piuttosto che di creazione di posti di lavoro. Vanno strutturate e su questo Milano, se non a Milano, in nessun altro paese, in altre città in Italia può avvenire. Ci stiamo lavorando molto con le università, ma questo va molto strutturato. Il mondo ospedaliero, il mondo della sanità, ok, non abbiamo EMA, ma è solido, è forte, si interseca molto bene con quel mondo universitario e lo vedremo bene sia sulla città della salute a Sesto, sia a Rò, che poi tra l'altro in realtà è Milano perché il 90% del territorio sta nel comune di Milano. Allora abbiamo queste prospettive su cui lavorare insieme. Abbiamo un modo di fare politica a Milano che non ha preso un'avvaganza che secondo me non andava bene, che saltava i corpi intermedi. Noi a Milano sappiamo che questa cosa funziona se gli obiettivi sono condivisi da tutti i soggetti attivi. Viviamo in una defraimentazione, una fermentazione della società che è un casino per tutti e che non funziona. Dai social network, impori, è bello che tutti abbiano una loro opinione ed è importante che tutti la possano esplicitare, ma poi se non ricreiamo una situazione dove i corpi intermedi fanno il loro lavoro e sono in condizioni di farlo al meglio, di rappresentare i cittadini, gli interessi particolari e gli interessi generali e aiutino a tenere insieme la società, poi non si raggiungono gli obiettivi perché se no ognuno va per la sua strada. A Milano questa cosa qui è stata calmierata ed è uno degli elementi del successo del territorio. Abbiamo bisogno di credere che la crescita delle infrastrutture a Milano è parte dello sviluppo. In tutto il resto del paese ogni volta che c'è un'infrastruttura c'è una protesta, anche a Milano, ma noi quali dobbiamo gestire? Se guardiamo oggi Milano ha avuto una crescita delle infrastrutture reali, stiamo nel 2018, andiamo indietro di 5 anni, andiamo avanti di 5 anni, tra la metropolitana 5 e la metropolitana 4 significa 30% in più di infrastrutture metropolitane, benissimo, ma non ci sono solo quelle. Milano è la città dove si sperimenta il 5G e quella è un'infrastruttura altrettanto importante perché consente di dire che tutte quelle aziende che vogliono lavorare su quel settore devono crescere a Milano e sta già avvenendo. Le società di comunicazione televisiva si stanno spostando strutturalmente a Milano, per fare un esempio. Allora, noi abbiamo grandi potenziali a riguardo e anche grandi rischi, perché se noi non diamo una risposta vera a quella generazione di 20-40 anni che hanno investito a Milano come ultima porta prima di andare all'estero, perdiamo un'opportunità e noi siamo però in condizione di vincere da questa sfida, se la vogliamo tutti quanti insieme. Allora, io credo che non dobbiamo cullarci nell'idea che la crescita di Milano è inerziale, tranquilla, perché siccome Roma va male, Milano andrà bene per forza, ma dobbiamo viverla come una grande responsabilità. Milano oggi guida lo sviluppo del Paese, è un'opportunità per chi vive a Milano e dobbiamo sempre di più pensare non solo a come la valorizziamo per noi, ma come restituiamo al Paese il fatto che avere una città guida non è un'opportunità predatoria solamente per il nostro territorio, ma diventa un elemento di sviluppo organico per tutto quanto il resto del Paese. E su questo le infrastrutture hanno cambiato il quadro. Milano è più vicino a Torino che a Magenta, in chiave di minuti. Ci si mette di meno a Porta Nuova che ad andare in macchina a Magenta alle 8 del mattino. Il che significa, da un lato, che dobbiamo lavorare per la qualità della vita delle infrastrutture nella nostra area metropolitana, ma dall'altro che la rapidità delle connessioni con Torino, con Bologna, con Roma, con Firenze, con Venezia ci impongono un ruolo nazionale che 15 anni fa non avevamo. Dobbiamo svilupparlo al meglio. Il piano del governo del territorio può essere un modo con cui noi mettiamo nero su bianco alcuni elementi, ma la cosa importante è che ci sia questo tipo di tensione morale in tutti coloro che hanno l'onore di governare la città e di guidarle. Su questo le parti sociali e i sindacati sono per me un elemento essenziale e centrale. Allora, se facciamo questa cosa qui, significa che noi anche diamo un indirizzo al Paese. Perché significa che a quella generazione di 20-40 anni a cui spesso non si parla, Milano sta parlando dicendo che qui c'è una parte del vostro futuro. Qui c'è un'idea di sviluppo. Qui c'è una città che non teme il confronto con Barcellona, Monaco di Baviera, Parigi o Lione. Una volta vince, una volta perde, ma è lì. E io credo che sia quello su cui abbiamo lavorato per un decennio insieme e su cui possiamo lavorare e ottenere risultati anche nei prossimi 10 anni. Grazie.